Musica Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Arteforum. Oggi abbiamo un ospite molto particolare, abbiamo un artista che non si definisce pittore in quanto la sua opera presenta delle peculiarità veramente eccezionali. Abbiamo Giuseppe Amadio che viene da Todi, è un grandissimo piacere, ti do il benvenuto Giuseppe. Grazie. Assolutamente. Grazie. Siamo pronti a parlare di queste opere che vediamo qua intorno. Di questo concetto. Di questo concetto, assolutamente, che ha veramente del particolare e quindi non vediamo l'ora di riuscire a capire cosa c'è dietro. Quindi tu alterni, innanzitutto, vieni dalla tecnica industriale, quindi il tuo intento di essere artista non ha la classica formazione accademica che hanno tutti i pittori. Sì, c'è stato un interesse nella filosofia dell'arte. Ma il concetto è nato lentamente, piano piano, con il gesto delle mie mani, le superfici sono nate così praticamente. Benissimo. Infatti io qua vedo che hai frequentato corsi di design e grafica pubblicitaria. Esatto. Sono questi che mi hanno portato anche, ma soprattutto questi, a organizzare la mia idea e il mio concetto. Benissimo. Tu alterni l'attività di artista con quella di designer di arredo. Quanto conta quest'altro mestiere nella creazione delle tue opere? Tu, quando le pensi, le contestualizzi in un ambiente oppure c'è un'esigenza interiore che poi, di conseguenza, viene utilizzata nell'arredo? La realtà è questa. La mia esigenza interiore mi porta a realizzare quest'opera contemporanea, perché io cerco di inserirla nel contesto contemporaneo, nel nuovo pensiero moderno, umano, con questi miei lavori. Benissimo. Quindi li, non li impongo, ma li presento, li realizzo per il mondo contemporaneo. Benissimo. Che sia un'arte contemporanea. Ok. Pur rimanendo, scusami, pur rimanendo un concetto ben storico. L'arte della estroflessione è un concetto storico, no? Benissimo. Io ne ho diversificato le realizzazioni. Perfetto. Allora, spieghiamo questo concetto di estroflessione. Quindi, tu mi dicevi l'estro che viene fuori, infatti le tue opere sono assolutamente in rilievo, quindi non è la classica tela dipinta. No. Ma c'è tutta una storia dietro. Certo. Quindi è praticamente realizzata con delle lamine di una certa altezza che forma un disegno molto equilibrato sulla superficie e che poi viene ricoperta con una, come dice Franza, con la pelle, con una pelle. In questo caso è il tessuto. È un tessuto di purissimo cotone. E poi è saputo organizzare l'estroflessione con i punti, con dei chiodi, diciamo, con dei chiodi particolari per creare un'immagine. Una tensione, perché la tela di cotone che viene... La tela, essendo una tela molto spessa, di 400 grammi, quindi è tutta in tensione, certo in tensione, perché sennò poi perderebbe quella pulizia, quel tiraggio. Non c'è, vede che non c'è una piega, c'è solo una uniformità di tensione. E come si realizza questa tensione? Cioè, quali sono i movimenti della tecnica? Si realizza, benissimo, si realizza con un fissaggio omogeneo della tela sulla superficie, lentamente, molto lentamente. E la tela viene dipinta prima o dopo? La tela dopo. Dopo. Quindi si applica prima una tela neutra, bianca, e poi... Una tela bianca, e poi viene trattata con delle resine, in questo caso sono resine acriliche, e poi, all'ultimo, il colore viene realizzato da me, è un colore a base di cauccio, gomma cauccio. Perché si presta meglio al tessuto, al cotone? No, perché mi dà una maggiore elasticità. Ah, d'accordo, quindi ha una funzione materica proprio, nel senso che ammorbidisce il cotone. Sì, è una scelta mia proprio per garantire la continuità della tensione sulla tela. Benissimo. Perché la gomma cauccio tende sempre a tirare. Ok. E la presenza di questi colori forti, ma soprattutto primari, quindi... Primari, sì. Primari, quindi questa... Quest'amore... Questa scelta. Esatto, questa scelta assolutamente concettuale, nel senso molto precisa, di utilizzare soltanto alcuni colori, e ovviamente un colore soltanto, quindi abbiamo davanti delle opere monocrome. Perché? Dunque, il colore primario, perché mi dà più equilibrio. Il rosso, per me, e lo intendo come rosso, il giallo, anche se viene spento un po' dal giallo primario, oppure il blu, comunque sono colori che intendo usare perché mi completano più questo tipo di arte concettuale. Io non potrò mai vedere un'opera, diciamo, un'opera con un colore qualsiasi, con tutto rispetto per gli altri colori. Però solo primari. D'accordo, mi hai detto prima assolutamente non il verde, perché? Perché il verde invece dà l'impressione comunque di un colore molto acceso, molto... Perché il verde è un colore... si deve comporre come colore, e quindi non lo intendo usare, o se no molto raramente, sulle mie opere. Quindi c'è un po' questo rispetto assoluto del concetto proprio. Tu mi parlavi prima di questi cinque concetti, che sono all'interno poi di uno stesso gruppo. Il concetto di realizzo. Benissimo. Quindi c'è un po' questa esigenza di rispettare quelli che sono i tuoi principi basilari. Quindi il colore monocromo, l'opera deve piacere a me prima di tutto, so io che esprimo il mio amore per l'arte. Certo. Quindi non c'è... Molti artisti adesso contemporanei, ovviamente, presentano, come poi succede anche in altre arti, nella musica, in altre arti, un qualcosa che può essere fruibile dallo spettatore, anche per un intento di mercato. Invece per te è veramente un'esigenza personale? No, assolutamente no. Per me l'opera deve essere mia, non copiata da nessuno, deve piacere a me e basta. Assolutamente. E ti è mai capitato di immaginare un'opera che poi in realtà nella sua realizzazione non corrispondeva al tuo ideale? L'ho guastata. Guastata cosa vuol dire? Significa buttare via tutto. Ah, d'accordo. Quindi non c'è l'accentazione del risultato. No, 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 assolutamente. Adesso non succede più, perché il concetto è questo e vado avanti realizzando ciò che penso. All'inizio magari poteva capitare di sperimentare un disegno che poi mi accorgevo che non faceva parte del mio pensiero. Allora via. Quindi c'è veramente questo attaccamento? Anche se era molto gradevole. Avrei potuto sfruttare questa cosa, invece no. Quindi c'è quasi un'ossessione positiva a quello che è il tuo intento primario, nel senso a volte ci si accorge nel percorso magari di avere una realizzazione diversa da quello che era il pensiero iniziale. Certo, certo. Invece tu hai un'idea precisa sin dall'inizio e quella deve giungere a compimento. E' questo che io ho pensato fin dall'inizio, da oltre 25-26 anni fa e oggi mi ritrovo con queste cose che hanno in loro la loro importanza e vedo che è un concetto d'arte che va bene. Che va bene, che va bene. Che va bene. Benissimo. E quindi questo attaccamento alla filosofia, ma proprio al rispetto anche del concetto. Mi parlavi prima di Umberto Eco che è stato un incontro felice. Cosa ti ha dato? Cosa ti ha detto soprattutto? La coerenza. Sii coerente con quello che tu pensi. Non seguire nei mercati, nelle filosofie degli altri, nelle idee degli altri, ma sii coerente con te stesso. Quindi uno studio dell'estroflessione nella massima coerenza di quelli che sono i tuoi principi. pur di affrontare anche critiche a sfavore, ma non meno mi interessano. Perfetto, quindi questo è importante perché molti in realtà... E quindi anche Dorazio, Piero Dorazio, il mio grande maestro, anche lui aveva questo suo dire, non seguire ciò che non è tuo pensiero. Il tuo pensiero deve essere evidenziato sempre. Pensi una cosa, la devi fare. Sino alla fine, in mancabilmente. Sempre, sempre. Non bisogna mai... Beh, ci vuole molto coraggio. Io ce l'ho. Sì. Io ho molto coraggio. Perché una persona a un certo punto decide, tra tutte le forme artistiche, di crearne una sua, di rispettare al 100% il proprio principio iniziale e fare qualcosa che è diverso da tutto il resto. Perché è il mio modo di fare questo. Non lo so, è il mio modo di fare. Io non seguo mai la moda, non seguo mai i consigli, i suggerimenti del mercato, delle... No, questa è una cosa mia. L'ho sempre pensata così, anche se diversamente, ma ho realizzato sempre quello che io credevo fortemente di fare. E ci sono riuscito. Bene, questa è sicuramente una grandissima soddisfazione. Sì. Beh, sì, ti vedo... Sì, te ne parlo con... Esatto, con entusiasmo. Con un certo entusiasmo. Perché seguire gli altri poi... Non porta a buona strada. Non porta da nessuna parte. È vero. Assolutamente. Più comodo magari, però non è altrettanto... Sì, potrebbe essere più comodo, più allettante al punto di vista economico, magari. No. Bene. Quindi questo è assolutamente una cosa da sottolineare. Sì, questo è... Lo dico sempre. Per me è il... Io realizzo ciò che penso. E basta. Queste forme che apparentemente sono assolutamente molto rotondeggianti, quindi danno anche un'idea armonica. Questo è un tipo di realizzazione. Sì, infatti. Però ci sono i famosi cinque concetti che sono già simili a questi, però che variano leggermente. Io ogni sei mesi, sette mesi, magari dopo ottobre lei troverà un'opera uguale a questa, però con una forma leggermente diversa. Quindi questi cinque concetti sono rappresentativi del... Praticamente ci sono le differenze nelle lamine. La differenza delle forme e delle lamine. E da che cosa viene una forma più rotonda piuttosto che una più spezzata? Non lo so. Da un'emozione interna? Ne, certo. Probabilmente. Anche il colore? No, i colori rimangono questi. Sì, ma dico, c'è una scelta all'interno di questi colori primari? C'è una scelta? Il rosso ti evoca qualcosa, il blu un altro? Beh, sì, un rosso primario può essere più efficace per un certo tipo di concetto. Magari un'opera grande così è molto azzardata, rossa. Ecco perché ora ho incluso anche il rosso magenta. Perché mi dicevi che all'interno di un'abitazione può essere più gradito un colore del genere. Praticamente devo anche capire che sì, a me va bene il rosso primario, però c'è anche altre possibilità. E quindi siccome sono 6-7 mesi che questo ho accentuato, prima il rosso era un po' più spento, adesso l'ho ravvivato. E ora sono ritornato al magenta e vedo che è bello perché io con il nuovo volume che sto creando adesso il magenta rende molto, molto al pari di questo. Bene. Quanto ci metti, Giuseppe, a fare un'opera? Adesso al di là della grandezza, tu mi dicevi prima, ci vuole anche uno sforzo fisico? Sì, ci vuole anche una certa resistenza perché per fare un'opera grande così, non lo so, una settimana diciamo di lavoro. Perché prima si passa per lo studio, si realizza a tavolino, così a studio si fa un bozzetto su carta. E io da lì capisco se la devo realizzare o no. Già io so. Bene, quindi è una... Quindi passerà una settimana. Grazie Giuseppe. Noi ci vediamo tra un attimino perché torniamo con il nostro artista per capire un po' anche sulla sua vita privata, insomma, che cosa lo spinge, cosa pulsa all'interno di questa persona. Grazie, tra poco. Bentornati, siamo sempre qua insieme a Giuseppe Amadio. Va bene. Giuseppe, mi faccio un po' i fatti tuoi adesso. Va bene. Parliamo un po' della tua vita privata, della tua vita personale, della tua formazione, di quello che c'è dietro Giuseppe Artista. Insomma, come passi la tua giornata? Qual è il supporto della tua famiglia? Mi dicevi prima, mia moglie ogni tanto mi dice, ma lascio a perdere, perché ti vorrebbe più vicino? Adesso non me lo dice più. Adesso si è acquietata. No, no, adesso si è acquietata. Quindi la mia giornata inizia prestissimo la mattina alle cinque. A caspita. Sempre. inizio con uno studio, con dei disegni, cerco di realizzare quello che sto creando con la mente e la mattina prestissimo realizzo i miei bozzetti, i miei studi. Poi alle sette, alle otto, inizio, vado a studio e inizio a realizzare fisicamente il concetto, il mio lavoro. Quindi i tuoi disegni sono degli schizzi che tu fai? Sì, che poi io conservo ogni opera, il suo disegno, il disegno di ogni opera è conservato da me. Ho capito. E questa, e tua moglie a un certo punto? Mia moglie, mia moglie, sai com'è. È interessante, io immagino la vita di una donna o comunque viceversa di un uomo accanto a un artista che si sveglia la mattina, i suoi disegni, i suoi bozzetti e poi va in studio a realizzarli. La moglie dice, ma chissà cosa avrà in testa, chissà che cosa lo spinge a realizzare i suoi sentimenti, insomma le sue espressioni in questo modo. Niente, all'inizio c'è stata questa resistenza da parte del mio clan. Il clan di famiglia. Il clan di famiglia, che poi visto la mia determinazione e quindi hanno dovuto desistere a questa cosa. Anche perché, anche perché, ha ragione, cominciavano a capire tutti che avevo ragione io. In che senso? Nel senso che il concetto era giusto, lo studio era unico e il mio modo di impormi era valido. Quanto ti interessa l'arte degli altri? Fai dei confronti? No, 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 non mi interessa a me, non mi interessa. Io guardo, io cerco di realizzare quello che ho in testa. Io non guardo mai, anche perché il concettuale è molto raro, no? Assolutamente, siamo abituati a un tipo di pittura. L'arte concettuale, se andiamo a vedere, nella storia dell'arte è molto, molto rara. E quindi, poi non ho mai preso spunto dagli altri, né dal concetto di realizzo, né dal colore, e neanche niente. Non ho seguito quello che io avevo in testa e basta. Però se tu dovessi andare, ti sarà capitato di andare a vedere delle mostre? Certo. Da che cos'è che vieni colpito, al di là di quello che è appunto il tuo concetto? Dunque, l'impressione che mi ha sempre fatto la spazialità, l'immensità del colore monocromo, mi ha sempre colpito quel colore unico, quel fare arte, diciamo, particolare, diversa. Particolare. Le tue opere sembrano, infatti, un po' e sono state definite delle cartine geografiche del mondo, quindi una ricerca assoluta su quella che è una spazialità, un neospazialismo tutto tuo. Sì, alcuni critici dicono che questo... Non ti vedo convinto, però, non... Lo condivido. Condividi, sì, condividi... Beh, a me non mi interessa. A te non mi interessa. A me non mi interessa. Mi interessa che l'opera è apprezzata, tanto il vero intenditore dell'opera è il gallerista e quindi i suoi collezionisti. Perfetto. Se piace un'opera vuol dire che il mio concetto, il mio pensiero è giusto e quindi vado avanti non seguendo nessuno, seguendo piccoli suggerimenti delle mie gallerie, sì, ma non nel concetto di realizzo né del colore, suggerimenti di varia natura. Benissimo. E dato che hai citato appunto gli esperti del settore, io do il benvenuto a Giovanni, perché prima si parlava appunto... Ciao Giovanni, grazie mille. Si parlava appunto di queste opere che vengono in realtà realizzate con delle linee spezzate, quindi c'è tutta una poetica dietro degli studi e quindi chi meglio di te può spiegarci da cosa viene. Ti ringrazio, sono un critico, comunque sì, presento Giuseppe che conosco già da un po' di tempo e quindi è un'artista che mi ha colpito da subito, proprio perché, secondo me, è riconoscibile intanto nel suo lavoro una continuità con, partendo da lontano, con lo spazialismo di Fontana, attraversando dopo Castellani e Bonalumi. Ecco, nel suo caso si potrebbe parlare di uno spazialismo tardivo, ma, laddove tardivo, non è un termine sprezzante o denigrante, anzi è un qualcosa in più, nel senso che lui, a differenza del minimalismo strutturale di primi, ha, in linea con i tempi, ha reso più gradevole, diciamo così, questa lestroflessione attraverso questo gioco decorativo che è assente, ovviamente, nei suoi precursori, ripeto, come Castellani e Bonalumi. E, sicuramente, nel panorama contemporaneo ritengo che lui sia l'unico oggi a fare un lavoro molto preciso e unico nel suo genere, pur, ripeto, in linea con quella che è la storia dell'arte, perché, sai, se parliamo di Fontana, ed è molto bello qui evidenziare alcuni suoi lavori che sono, tra l'altro, i più essenziali, quindi, quelli con i tagli estroflessi, per esempio, cioè, mentre in Fontana il taglio è introflesso, cioè, lui tagliava la tela per andare all'interno del quadro. Ecco, lui, invece, il quadro, cioè, il taglio lo fa al contrario, cioè, lo fa sporgere, quindi non è un taglio, è una linea aggiuntiva, una superficie in più, per l'appunto estroflessa. E qui, diciamo, la continuità con una grande differenza. Ecco, quindi l'aspetto importante di Giuseppe Amadio è proprio questo, insomma, che pur in linea con, diciamo, con i grandi della storia dell'arte, sì, citano Mente Fontana, Castellani, ecco, Bonalumi, l'ultimo, ecco, e lui comunque si pone su un piano diverso, pur sottintendendo sempre questa continuità. Questa la trovo una cosa molto interessante. E rispetto al passato questo desiderio di porsi al di fuori, quindi, non lo so, io se immagino l'introflessione e l'estroflessione è un po' come l'esplosione e l'implosione. E forse è la stessa forza, ma da due punti di vista differenti. Credi che ci sia qualcosa dietro, cioè una materia che pulsa, che ha bisogno di esplodere, di venire addirittura fuori dalla tela, in qualche maniera? Beh, sì, in tutte le opere, secondo me, c'è una forza interiore che fuoriesce. Chiaramente dopo si manifesta attraverso la gestualità del lavoro dell'artista, che può avere varie letture. Nel suo caso, chiaramente, sì, è un'esplosione nel senso che vengono fuori, decisamente. Però può essere anche un'implosione se uno non vede la sporgenza ma vede la cavità. Quindi l'arte è sempre un fatto interpretativo. Assolutamente, assolutamente. Infatti sì, si parlava prima di gioco, questi tagli di luci, ombre. Quindi tu, non giocando, ovviamente, con spazialità e colori, ovviamente, se ne apprezza la pulizia. Cioè, a me in realtà dà l'impressione di un grande ordine. Sì, di un grande rigore, diciamo. Rigore, assolutamente. Un grande rigore. Credo che sia così. È così. La pulizia del colore, la linea, perfetta, l'angolo vede l'angolo, gli angoli sono rigorosamente adattati alla linea del tessuto. Non sono angoli acuti, non c'è una sporgenza dura, forte, ma c'è un angolo che si adatta alla rotondità della linea. E questi punti che si vedono, che cosa c'è dietro? Sono dei chiodi, sono dei punti di fissaggio? Sono delle, sono delle, sono delle, non si possono chiamare chiodi, li devono chiamare, sono dei punti, sono dei punti in ottone, che poi vengono trattati e quindi in ultimo colorati con la tela, con il colore della tela, viene tutto un colore, però si vede la parte, diciamo, la parte più bassa, che è tenuta dal chiodo, diciamo il chiodo. Ma non è il chiodo, ma è un punto in ottone. Esatto, per questo che, quindi, il tipo di funzione aveva, non soltanto tecnica, quindi di forza, di tensione, ma dà anche un effetto visivo molto bello. Cioè, a prima chiodo a me sembrerebbero comunque di fiori, almeno questi che ho davanti, poi ci sono invece quelli con linee più spezzate, quindi più verticali, che magari danno più un senso della durezza. Però nell'insieme, nonostante i colori molto forti, a me danno veramente il senso di un equilibrio e di un ordine molto bello. Sì, perché, certo, devono avere una posizione ben equilibrata sulla superficie. Su una superficie in tensione, oltretutto, quindi c'è veramente un bel gioco tra forza, estroflessione, equilibrio, ordine, rigore. Quindi è davvero un bell'ensemble. L'ultimissima domanda, Giuseppe, curiosità, la tua casa? La mia casa è una casa adattata ai miei gusti. Ok, non avevo dubbi, chissà perché. Sì, 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 con spazi abbastanza grandi, e quindi semplice, con... Ci sono dei quadri, dei tuoi quadri dentro? Con delle opere, sì, con opere. Comoda, molto solare, perché come posizione... Fonte di ispirazione. Fonte di ispirazione, specialmente la mattina, prestissimo. Alle cinque. Alle cinque, la mattina, c'è un equilibrio nella mia casa, un'armonia, che dipende dalla mia soddisfazione personale. Assolutamente. C'è un equilibrio, c'è uno spirito molto armonioso, molto equilibrato, anche perché se non ci fosse questo tipo di filosofia di vita, non si potrebbero realizzare queste cose. Assolutamente. Quindi comunque 25 anni di carriera... 26, 27, 27... Perché poi andiamo là in fondo, parliamo dell'80, i primi suggerimenti che vi dà Piero Dorazio, e quindi, sin oltre, poi c'è voluto del tempo per metterle in incubazione questi pensieri e poi piana, 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 piana si sono realizzati. Eccomi qua. Ed eccoci qua, quindi. Eccoci qua. Una vita dedicata al rispetto di un concetto, seppur nelle sue piccole evoluzioni, ma... E che io seguo rigorosamente come al primo giorno dei miei realizzazioni, dei miei... Del tuo incidio. Dei miei lavori. Benissimo. Giuseppe, è stato veramente un piacere, io ti ringrazio tantissimo, ringraziamo Giovanni per il suo prezioso intervento. Grazie a voi. E noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata e vi ringraziamo per la vostra attenzione. Ciao. Ciao. Ciao.